Buongiorno, direi di iniziare subito con il primo oggetto all'ordine del giorno, un'interrogazione presentata dal consigliere Smacchi e rivolta all'assessore Bartolini, sede Inaildi Gubbio. Prego, Presidente Smacchi. Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti i colleghi. L'Agenzia Inel di Gubbio è stata istituita nel 1999. Si trova all'interno di Palazzo Benveduti, a Gubbio, dove tra l'altro hanno i propri uffici anche l'Agenzia Inps e l'Agenzia delle Entrate. Allo stato attuale è in previsione un trasloco dei locali per scadenza del contratto e mancato rinnovo dello stesso. contratto in essere tra Inps e società operaia di mutuo soccorso proprietaria dello stabile. Nonostante la volontà espressa da più parti nei mesi scorsi di dare soluzione al problema, ad oggi non si è ancora riusciti ad individuare alcuna sede alternativa dove allocare questi uffici. Ricordo che l'interrogazione è datata 10 ottobre. Aggiungo che la mancata assegnazione di una nuova sede metterebbe a rischio la presenza degli uffici Inail, Inps e dell'Agenzia delle Entrate, con delle inevitabili e pesanti ripercussioni per tutta la comunità e Gubbina e dei comuni della fascia appenninica. Ora, visto che l'attività che si svolge all'interno dell'Agenzia Inail è sia di tipo amministrativo ma anche di tipo sanitario, sono presenti infatti uno sportello per le imprese, uno per gli assicurati e uno per i patronati, e visto che tutte queste prestazioni sono rivolte ad un'utenza piuttosto vasta, si pensi alla notevole estensione territoriale del comune di Gubbio e ai sette comuni della fascia appenninica, considerato che l'ufficio Inail rappresenta un agevole e utile punto di riferimento per un'utenza di almeno 200 persone a settimana proveniente da questo comprensorio, e considerato che l'attività sanitaria svolta dall'ufficio di Gubbio concentra tutte le visite di quei soggetti che per lesioni sofferte a seguito di infortunio sul lavoro presentano impossibilità a deambolare o a guidare, e considerato che a tali soggetti l'Inail fornisce prestazioni in convenzioni con la struttura ospedaliera di Gubbio-Gualdo, garantendo gratuitamente e in tempi veloci l'effettuazione di esami radiologici quali RX, TC e RM, visto che fino al 2014 l'apertura dello sportello Inail era di tre giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, con un'apertura dalle 8.30 alle 12.30, e visto che pur mantenendo l'identico numero di accessi allo sportello, valutati come detto in circa 200 persone a settimana, con il tempo si è passati ispiegabilmente ad un'apertura ridotta di un giorno, ovvero soltanto il lunedì e il mercoledì, con lo stesso orario, e che allo stato attuale sarebbe incomprensibile un'ulteriore riduzione del servizio, evidenziato che i processi di riorganizzazione di enti ed istituti di carattere nazionale, come nel caso sopra evidenziato, devono tenere in considerazione non solo gli aspetti di risparmio economico gestionali, ma i servizi da dare ad un territorio, ad un'intera collettività, che nello specifico diventano essenziali, sia in termini di coesione sociale che di sviluppo economico, fatti che non possono essere messi in discussione per meri aspetti non strategici, come la permanenza o no di questi uffici all'interno di Palazzo Benveduti di Gubbio. Tutto ciò, Assessore, la interrogo al fine di conoscere quali azioni si intendono intraprendere al fine di scongiurare la chiusura o la ulteriore riduzione di servizi essenziali, come quelli offerti dagli uffici INAIL, IMSS e Agenzia delle Entrate, oggi presenti all'interno di Palazzo Benveduti di Gubbio. Grazie. Grazie, prego, Assessore, mi raccomando ancora il tempo. E vado subito in media stress. Dopo vari contatti con la direttrice INAIL di Perugia, proprio cinque giorni fa, la direttrice ci ha assicurato che il problema del mantenimento dello sportello INAIL a Gubbio può considerarsi in via di soluzione. In quanto è stata individuata la nuova sede di proprietà comunale, peraltro non mi è stato specificato quale sia la sede, però è stata individuata, dove collocare detti uffici. La direttrice ha anche precisato che ad oggi sono in corso contatti tra gli uffici tecnici del Comune e quelli di INAIL, finalizzata alla realizzazione dei lavori necessari ad ospitare gli uffici in questione. Naturalmente c'è un impegno della Giunta regionale a continuare nel monitoraggio di questa notizia. Grazie. Prego, Presidente Smanchi. Grazie, Assessore. La ringrazio soprattutto a nome di tutta la comunità del Comprensorio dell'Alto Chiascio, visto che alla data del 10 ottobre questa soluzione ancora non era stata trovata, se cinque giorni fa c'è l'impegno da parte del Comune e della direttrice affinché questa soluzione possa far sì intanto che le sedi INAIL, IMS e dell'Agenzia delle Entrate non vengano portate via da quel territorio e allo stesso tempo si trovi magari una soluzione confacente alle esigenze e alle necessità anche sanitarie dei cittadini di quel comprensorio credo che anche da questo punto di vista abbiamo fatto una cosa al servizio di quella comunità. La prego di monitorare come Giunta regionale, lo faremo anche noi come Assemblea legislativa affinché tutto questo si avveri in tempi celeri e certi. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto successivo, saltiamo il 125 perché non c'è il consigliere Rometti assente per motivi istituzionali, per il momento saltiamo anche il 128 in attesa che arrivi l'assessore Barberini e passiamo al 129, si tratta di una interrogazione del consigliere Neve rivolta all'assessore Chianella intendimenti dell'aggiunta regionale in merito al fondo per il finanziamento di progetti di riqualificazione e decoro urbano di spazi pubblici dedicati ai bambini. Prego, consigliere Nevi. Grazie Presidente, ma questa interrogazione riguarda un fatto che non era mai avvenuto prima d'ora nell'amministrazione regionale, penso, almeno a mia memoria e cioè l'aggiunta regionale con deliberazione numero 917 del 1 agosto 2016 aveva stanziato 1.100.000 euro per la presentazione di progetti di riqualificazione a decoro urbano di spazi pubblici dedicati ai minori, ai bambini che riguardava una trentina, adesso occhio e croce, di comuni della nostra regione che ne avrebbero beneficiato, si diceva ai comuni entro il 26 settembre del 2016 questa deliberazione del 1 agosto del 2016, entro il 26 settembre del 2016 mi dovete presentare i progetti e entro il 31-12-2017 dovete ultimare i lavori. Allora nel marzo del 2017 arriva una lettera ai comuni in cui sostanzialmente si dice abbiamo scherzato, i soldi non ci sono più, arrivederci, grazie, senza dare ulteriori informazioni tant'è vero che il comune di Citerna, io ho qui la lettera del comune di Citerna che non è certo un comune di destra, pericoloso, eversivo di destra ci scrive alla regione dicendo sostanzialmente che fino hanno fatto questi soldi e anche in relazione alla scadenza, all'ultimazione dei lavori al 31-12-2017 e siccome sono interessati molti comuni io chiedo di sapere che fino ha fatto il fondo in premessa e quali sono le intenzioni della giunta regionale per onorare gli impegni almeno quelli presi attraverso delibere di giunta regionale. Per quanto riguarda gli impegni presi a parole, ormai non fa più notizia che non ne rispettate uno ma gli impegni presi attraverso delibere di giunta regionale non era mai capitato ecco questa volta è capitato, è gravissimo anche dal punto di vista del rispetto istituzionale molti comuni hanno organizzato anche i loro bilanci in relazione anche a questa disponibilità se pensavano di realizzare dei giochi per bambini con questi soldi hanno utilizzato i fondi del Comune per altre questioni magari e oggi invece non hanno potuto realizzare i giochi per bambini o altri elementi di arredo urbano sempre finalizzati all'attività per minori. Grazie. Prego Assessore Chianella Grazie Presidente, sarò brevissimo in relazione all'interrogazione e alla domanda che recita adesso a me di sapere che fine ha fatto il fondo di finanziamento dei progetti fornisco queste delucidazioni con deliberazione del primo agosto del 1917 la giunta regionale ha approvato un avviso pubblico destinato ai comuni che presentano una popolazione sia superiore a 10.000 abitanti e che non abbiano fruito con una popolazione sia superiore che inferiore e che non abbiano fruito di finanziamenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana significativi tali comuni, circa 36, sono comuni della cosiddetta fascia mediana della regione dell'Umbria che non si trovano in filoni diversi di finanziamento con lo scopo anche di riequilibrare alcuni flussi di risorse regionali per questo scopo sono state destinate 1.100.000 euro sul capitolo 0818S del bilancio 1618 tali progetti riguardano la riqualificazione del decoro urbano mediante recupero o nuova realizzazione di piccoli spazi di aggregazione o socializzazione in ambito urbano e in particolare la realizzazione e l'adeguamento funzionale e il miglioramento di aree verdi attrezzate all'aria aperta e spazi pubblici destinati al gioco bimbi. Con la medesima deliberazione è stata data anche indicazione circa l'entità dei contributi ai comuni con popolazione sopra 10.000 abitanti di 40.000 euro ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti di 27.000 euro sono state espletate le procedure per la presentazione delle richieste da parte dei comuni e soltanto al momento della formazione degli atti per l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei comuni interessati è stata riscontrata l'impossibilità di procedere a causa della natura delle risorse che erano destinate ad altra tipologia di intervento e che gli uffici non avevano evidenziato al momento dell'assunzione della deliberazione in oggetto. Tale inconveniente e l'impossibilità di riferire risorse regionali aggiuntive nel corso del 2017 hanno comportato la temporanea sospensione di tale intervento. Occorre tuttavia sottolineare che la situazione descritta è stata tempestivamente segnalata ai comuni al fine di evitare loro qualsiasi tipo di problema rappresentando anche che all'esito degli approfondimenti necessari si sarebbe comunque dato corso alla realizzazione dei progetti presentati. Non è vero che le amministrazioni interessate che hanno attuato delle scelte privilegiando tante spese in previsione di questi interventi perché la situazione è stata tempestivamente segnalata. Che le procedure attivate dai comuni sono state solo una quantificazione di massima degli interventi ipotizzati e una semplice domanda acquisita al protocollo della Regione. Che i comuni non hanno mai effettuato affidamenti di lavori in quanto non è stata formalizzata alcuna concessione contributiva e che pertanto non risulta che tale situazione possa aver arrecato alcun pregiudizio a comuni stessi. Attualmente il tema della riqualificazione e decoro urbano degli spazi pubblici dedicati a bambini è all'attenzione della Giunta regionale e degli uffici competenti che sono impegnati al ripetimento delle risorse necessarie nell'ambito delle ordinarie procedure di programmazione. Si spera che a breve si potrà avere una soluzione su questa questione. Vorrei però aggiungere che la Giunta regionale e così anche i sottoscritti e i responsabili degli uffici sono in costante contatto quotidiano con i sindaci su queste questioni come su tante altre che riguardano la vita dei comuni. Comuni che conosco bene, consigliere Nevi, che ho amministrato per tanti anni, che ho rappresentato per tanti anni, esattamente cinque anni e mezzo, in seno a Lanci, i piccoli comuni ovviamente, e devo anche dire che ho con tutti, comuni di destra e di sinistra, un buon rapporto istituzionale e personale da tutti riconosciuti e con i quali abbiamo risolto molti problemi. La Giunta regionale è vicina ai comuni che rappresentano un baluardo del sistema Paese e questa polemica, onestamente alimentata anche sui social, appare speciosa e soprattutto di sapore elettorale. Prego, consigliere Nevi. Presidente, io rimango in sito della risposta del consigliere, dell'assessore Chianella, perché insomma questa polemica che lui chiama speciosa di sapore preelettorale è alimentata dai comuni stessi che hanno scritto alla Regione rendendo pubblica questa mancata promessa di erogazione di fondi che sono necessari, necessarissimi per lo sviluppo delle comunità e per fare in modo che ci siano spazi più adeguati per i bambini che lei quando era sindaco ha sicuramente avuto contezza. Adesso che è diventato assessore mi pare che si stia dimenticando e comunque lei ha firmato il primo atto ufficiale a cui non è stato dato seguito in questa Regione. Penso che sia un bel primato e questo riguarda i comuni stessi. Quindi la situazione è veramente incresciosa che tra l'altro fa perdere di credibilità anche all'istituzione regionale, questa è la cosa peggiore, ma non solo, lei non ha nemmeno detto io mi aspettavo che stamattina ci annunciasse quando fosse riconfermato lo stanziamento e quando i comuni potevano invece avere la somma, invece no, l'ha buttata sui tecnici ma il costume tipico di chi governa, cioè addossare le responsabilità ai tecnici e si è limitato a dire ci stiamo impegnando e speriamo di riuscire. Ecco, viva la sincerità, ecco, io rimango basito, c'è una delibera di giunta che in teoria dovrebbe essere una cosa seria, però ne prendiamo atto e chiaramente mi ritengo totalmente insoddisfatto della risposta. Grazie. Bene, andiamo avanti, passiamo all'oggetto 133, è un'interrogazione del consigliere Brega rivolta all'assessore Cecchini, permessi regionali di ricerca geotermici. Prego, consigliere Brega. Grazie Presidente, non era la quinta, abbiamo anticipato. No, no, va bene, volevo praticamente interrogo l'assessore rispetto a una vicenda nota che è appunto quella della geotermia, come l'assessore sa, si ricorda noi qualche mese fa abbiamo approvato prima in commissione e poi in aula, una limità a una risoluzione dove prendeva atto di quello che i comuni interessati sul tema della geotermia avevano deliberato nell'assise sia di giunta che di consiglio comunale, dichiarandosi contrari all'installazione dell'esperienza della geotermia nei comuni interessati, in particolar modo nella zona di Castelgiorgio e dell'Orvietano. In tal senso, da parte della giunta in quella vicenda si era presa atto da quella situazione anche perché la maggioranza dell'Aula aveva appunto votato in unanimità quell'ordine del giorno e lì poi non abbiamo saputo più nulla rispetto a quella decisione. Nelle settimane scorse invece abbiamo preso atto, siamo venuti a conoscenza che gli uffici regionali hanno autorizzato un ITER, anche se diverso, sempre in quei territori per quanto riguarda appunto l'esperienza della geotermia. Allora io interrogavo l'assessore e la giunta regionale per capire qual è la razza di questa situazione considerando che gli stessi territori sono quelli sia della prima fase che della seconda fase, l'oggetto è sempre lo stesso, quello della geotermia, pur volendo non andare contro le leggi, però credo che politicamente sia irrispettoso nei riguardi di quei comuni e di quelle diciamo popolazioni, di quei cittadini che si sono espressi diciamo a unanimità contro questa esperienza della geotermia. Grazie. Grazie, prego assessore Cecchini. Il consigliere Brega pone l'attenzione su un tema che ha visto un grande confronto soprattutto nell'ultimo anno relativamente alla possibilità di utilizzare come fonte energetica la geotermia e quindi i relativi permessi che erano in corso. C'è stata una vicenda che noi tutti conosciamo rispetto alla quale in base alle normative vigenti la giunta avrebbe dovuto esprimersi. Questo accade quando in conferenze di servizi, in procedura di via c'è un dissenso da parte di un'istituzione che può essere superata solo dalla giunta regionale e tutti quanti sappiamo che la giunta ha rispettato il mandato del consiglio regionale avendo votato anche i componenti di giunta, i documenti del consiglio regionale, così pure il piano energetico ha individuato una possibilità minima di utilizzo di geotermia in questa regione e questo a livello di programmazione, impostazione politica è la nostra volontà. Dopodiché questo non vuol dire che nel momento in cui anche un consiglio regionale si pronuncia va a superare normative vigenti europee e nazionali che invece i dirigenti quando portano avanti l'istruttoria hanno il dovere di rispettare. Quindi in questo caso siccome la richiesta non è di attività previste, sono state autorizzate ricerche permesse di ricerca, solo attività preliminare di tipo investigativo superficiale, non c'è un atto amministrativo che autorizza da una concessione per lo sfruttamento, quindi siamo ad una fase precedente, gli uffici nel rispetto delle normative hanno dato un parere positivo ad un'indagine esplorativa, anche in presenza di posizioni non favorevoli di alcuni sindaci del territorio che però gli stessi hanno detto di avere piani regolatori compatibili, quindi previsioni urbanistiche compatibili con questa attività. In ogni caso la condetermina dirigenziale è stato quindi emesso un provvedimento solo per l'attività preliminare di tipo investigativo e che consistono in rilevamenti geologici strutturari, rilievo geochimico, prospezioni geofisiche e nessuna autorizzazione quindi è stata rilasciata relativamente alla realizzazione di perforazioni esplorative né tantomeno per la realizzazione di eventuali impianti geotermici. Nel momento in cui ci fosse un esito positivo allora il richiedente, la società Toscogeo SRL potrebbe chiedere appunto di avere autorizzazioni per perforazioni e quindi per la realizzazione di eventuali impianti. A quel punto inizierebbe un procedimento che prevede anche la valutazione di impatto ambientale oltre che naturalmente tutte le procedure previste dalla conferenza dei servizi e in quel caso quindi ci sarebbe tutto un iter da portare avanti. La verità è che all'oggi la società non ha ancora adempiuto ad alcune delle disposizioni previste nell'atto autorizzato con determina dirigenziale e quindi l'ufficio immagina che questa autorizzazione sarà dichiarata decaduta proprio per il fatto che la Toscogeo non ha ottemperato ad alcuna prescrizione. Grazie. Prego Presidente Brega. Grazie Assessore, la ringrazio per la sua puntualità e per la ricostruzione dei fatti ma io non mi ritengo soddisfatto non della sua attenzione che ha lasciato a questa ma ritengo che nonostante che sia giusto che gli uffici ottemperino ciò dice la legge e quant'altro voglio riscontrare l'anomalia di un iter autorizzativo che comunque si sovrappone nello stesso territorio dove questa assemblea legislativa che non va contro le leggi ma che le leggi le fa e che ci si attiene si era espressa come l'ha ricordato lei all'unanimità e credo che come ha ricordato lei non sono alcuni sindaci ma tutti i sindaci di quella comunità si sono espressi all'unanimità per dire no a quell'installazione e voglio ricordare perché lei è stata la protagonista e la ringrazio in commissione quando abbiamo rivisitato il piano energetico la commissione anche lì in unanimità ha dato un segnale chiaro diminuendo proprio sul tema della geotermia passando da x siamo diciamo totalmente per quello che era possibile abbiamo abbassato ulteriormente questa situazione per dire ci sono stati segnali politici è giusto che vengano rispettati le leggi nessuno dirà mai all'assessore cecchini che è molto attenta su questo ma nessuno da questa assemblea di non rispettare le leggi però credo che la politica e questa assemblea meriti rispetto e i dirigenti debbano tenerne conto quando fanno questi atti dunque io la ringrazio per la sua precisione ma non mi ritengo soddisfatto dalla continua non attenzione che viene riportata a quest'aula e a tutto ciò che in quest'aula viene deliberato grazie grazie a tutti grazie a tutti